non mi basta sul pesciolino, vai a fare il giro mamma daniele ma sei un portento in pochi minuti, guarda che andate se tod e io sono pazza, aspettate tranquillo la pazza mi piace come mai le facciate? guarda qui, guarda qui guarda qui, guarda qui e io la sai, gli è arrivata la vetella, è un buco di lui fammi vedere, sta a fare la ripresa mi apri la branca Giova, che non sei l'ignotto? come ti lo faccio a cacciare? spanzare non si vede neanche il verme non si vede neanche il verme non si vede il verme dove sta? dammelo secchi non si vede il verme? oddio scusa mi scappa tutte le pisci a mano guarda quando ne abbiamo presi aspettate ciao 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 ma non fare questa ripresa perché? perché no? l'intervento chirurgico del dottor De Vito Francesco non sono molto... bisturi tampone un po' di ossigeno lo stiamo perdendo l'abbiamo perso l'abbiamo perso qui, 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 qui qua, qua, qua mamma tante lunghe qui siamo a dove ci pisci che è questo allora dobbiamo riflazionare è un bastardo te lo naso li stai ficcando i cazzo di pisci ma infatti guarda dove gliel'avevo messo c'è una madosia fa la permanente col verme il verme solitario il verme solitario vai ragazza vai 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 e piglia gli altri e porta a casa qualcosa ho pescato io hai pescato?